Nella seconda giornata di campionato la Juventus va in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. I bianconeri iniziano anche questa sfida con il piede pigiato sull'acceleratore e all'ottavo minuto è Capitan Del Piero a suonare la carica. Abbiamo fatto una bellissima triangolazione e poi lui bravissimo, freddissimo nel battere il portiere. La rete di Del Piero mette la partita in discesa.